Allora, grazie a tutti. Allora, io non ho purtroppo un cantiere da mostrarvi, ma spero di averlo a breve e sarà altrettanto veloce. Quello che mi interessa qui è farvi capire perché l'abbiamo chiamata architettura meccanica. Architettura meccanica perché assieme all'impresa Schiavina e agli studi di ingegneria BMS e BMZ e a tutta una serie di aziende è diverso tempo che stiamo studiando il processo costruttivo. Cioè riteniamo che nel momento in cui tanti materiali si stiano evolvendo, sta cambiando il modo di costruire, il modo anche di vivere la nostra vita, il processo costruttivo è ancora rimasto molto tradizionale. Diciamo che quasi costruiamo come costruivano ancora i romani, con il ponteggio, con i problemi della sicurezza, con materiali magari anche un po' obsoleti o con tecnologie non all'avanguardia. E allora ci siamo chiesti, va bene, tutte queste nuove tecnologie, questo nuovo modo di studiare i materiali che ci ha permesso anche di riscoprire il valore di alcuni materiali tradizionali e nuovi utilizzi anche dal punto di vista dell'inquinamento, dell'ecologia eccetera, e ha aumentato magari i costi perché qualcuno dice costano di più eccetera, però ci fanno vivere meglio. Allora come possiamo abbattere questi costi, risolvere i problemi della sicurezza in cantiere e probabilmente agendo non sui materiali ma sul processo di costruzione. Quindi abbiamo pensato che tutti quelli che erano gli elementi, che sono gli elementi della squadra di un processo produttivo di un edificio dovevano essere portati, non incontrati man mano lungo il percorso, ma portati all'interno del processo di progettazione fin dall'inizio in modo da ridurre delle diseconomie, ridurre dei problemi di cantiere, trovare nuove soluzioni, nuove vie. Per questo abbiamo creato negli anni diversi tavoli tecnici, abbiamo studiato e in particolare li abbiamo fatti studiare attorno a un brevetto che avevamo sviluppato anni fa con BMS e BMZ di costruzioni in acciaio e legno per costruire un edificio intero completamente a terra cioè senza utilizzare i ponteggi e quindi ridurre i tempi di produzione, i tempi del cantiere e ridurre anche i problemi della sicurezza di caduta dall'alto degli edifici. Tutti questi studi si sono incontrati con le problematiche del terremoto, nel senso che noi stavamo pensando di realizzare questi primi edifici eravamo pronti e abbiamo pensato che questo prototipo di edificio potesse diventare un edificio vivo per dare una speranza alle popolazioni. E quindi abbiamo riunito attorno all'impresa Schiavina, noi come progettisti più tutta una serie di altri partner tecnici offrire gratuitamente la nostra professionalità e il nostro lavoro per realizzare questo esempio di architettura meccanica che è sotto forma di una scuola vera e viva e che faccia rivivere questa cittadina. Perché secondo me un'altra cosa fondamentale che c'è è che secondo me dobbiamo curare se vogliamo vivere in un ambiente o più in armonia con il nostro ambiente è anche curare l'aspetto sociale. Allora la cosa che mi ha particolarmente compito di tutti questi comuni quando sono venuta e abbiamo fatto i giri è che i centri storici erano distrutti, chiusi perché inagibili e anche le persone si sentivano defraudate della loro socialità. Cioè non avevano più un posto per riunirsi, anche semplicemente andare a messa alla domenica piuttosto che prendere il caffè in piazza o comprare il pane dal panettiere era improvvisamente non più fattibile. E quindi ho creduto molto quando il sindaco ci ha detto voglio le scuole qui, le voglio in centro perché secondo me in effetti aveva ragione, riportare le persone nel centro voleva dire farlo rivivere e poi partire da una scuola materna, la materna è il primo posto in cui i bambini incontrano la loro vita sociale e mi sembrava giusto. Quindi abbiamo portato avanti questo progetto e adesso vediamo qua come funziona quindi il luogo è dove sono state abbattute le scuole esistenti abbiamo logicamente per prima cosa fatto tutti i conti con la burocrazia ritrovando le superfici di norma, vedendo se era possibile ricollocare nello stesso ambito ancora la scuola media, elementare e materna e considerate che di tutti gli edifici è rimasta solo la mensa esistente che era appena stata costruita e quindi abbiamo fatto il progetto di scuola materna questo progetto si basa su questo brevetto, io non voglio dilungarmi troppo dal punto di vista tecnico sapete solo che è un sistema che ci permette di costruire fino a 5 livelli di impalcati tutti completamente lavorando con i piedi per terra in un sistema strutturale puntuale di travi in acciaio impalcati in legno su una piattaforma in cemento e questo permette di ridurre notevolmente i costi, i rischi del cantiere e dà anche una soluzione di tipo antisismico in questo caso la nostra scuola sarà soltanto di un piano ma la struttura che è modulare alcuni campi possono essere messi anche a sbalzo permette un'assoluta libertà di movimento e ci permette di avere una struttura puntuale che in seguito può anche essere modificata nel senso che non sono obbligata a tenermi la finestra dove è messa non sono obbligata a tenermi la camera lì perché ho il sistema strutturale fisso questo è un esempio di una struttura in uno a uno che abbiamo realizzato per la Biennale di Venezia come vedete nella prima figura è stato costruito tutto l'impalcato dei due livelli a terra poi con un semplice tiro di artogru gli elementi sono stati sollevati poi il dinamismo che serve soltanto per la fase di costruzione viene bloccato e quindi non agisce più questo piccolo mock-up anche diciamo se era 5 metri per 3 per 5 metri di altezza o 7 metri non mi ricordo più esattamente è stato realizzato in tre ore considerate che in Biennale quando è stato rimontato ci hanno messo invece una settimana e mezza no, un giorno e mezzo per farlo in maniera tradizionale perché non si poteva andare con il moletto a sollevare perché era una zona pavimentata per il pedonale quindi velocità e sicurezza quindi andiamo avanti per quanto riguarda la scuola abbiamo cercato di seguire tutte quelle che sono le richieste psicopedagogiche che poi fanno tanto scuola qui in Emilia Romagna per cui abbiamo creato 4 sezioni con 4 zone bagni tutte cercando di eliminare al massimo i percorsi morti o i corridoi abbiamo quindi un ingresso con una zona centrale per le attività libere poi qui vedete le zone bagno che sono realizzate in vetro-cemento in modo da permettere alle maestre nelle spazi altri di controllare sempre le attività dei bambini anche quando sono in bagno perché comunque è un'attività che devono imparare a fare ma sotto controllo poi abbiamo la zona spogliatoio che è anche questa intesa dalla norma comunale didattica perché devono imparare i bambini a cambiarsi, a vestirsi poi abbiamo tutta l'attività a tavolino e le zone invece delle attività più motorie e dormitorio che però mettono in comunicazione una sezione con l'altra per cui abbiamo la possibilità per le educatrici di modulare questi spazi e di suddividere i bambini per fare anche attività diverse o di gruppo la parte centrale qui in alto invece è tutta quella tecnica di impianti, di servizi, di riscaldamento pasti di piccolo ufficio perché non c'è la sezione didattica qui a Camposanto inoltre un'altra caratteristica l'edificio è stato orientato anche in maniera non casuale nel senso che nella zona nord abbiamo tenuto tutto lo spazio di servizio mentre abbiamo tenuto da questo lato che è l'est la zona dei bambini, quelli più piccoli che dormono maggiormente nel pomeriggio e che hanno quindi bisogno di una schermatura solare minore perché la mattina comunque il sole è meno forte mentre il pomeriggio abbiamo tenuto le sezioni dei bambini, quelli più grandicelli con una copertura invece più non permeabile perché il tetto verde continua fino all'esterno perché abbiamo bisogno di un'ombreggiatura maggiore nel pomeriggio e anche la tipologia dei serramenti è differente abbiamo pensato anche di usare perché le abbiamo usate in altri nidi queste finestre che vedete bombate che in realtà sono i tipici evacuatori di fumo dei capannoni però ai bambini piace entrare in queste finestre rotonde giocare, guardare fuori che piove eccetera quindi abbiamo usato questo tipo di idea qui abbiamo una sezione dell'edificio che quindi vediamo con tutte le pareti in vetrocemento opache nella parte bassa per la riservatezza del bagno invece libere nella parte alta appunto per permettere alle educatrici controllare la grande vetrata d'ingresso la parte alta ancora illuminata in modo che ci sia sempre luce da est e da ovest mentre la facciata sud è comunque protetta dall'alta copertura che poi vediamo più avanti queste sono le ventilazioni e le areazioni dei bagni questa è la passerella di ingresso che invita a entrare nella scuola e che abbiamo voluto fare con questi pilastri inclinati tenendo inclinato uno di questi moduli per ricordare come è stata costruita la scuola e poi queste sono le sezioni con tutta questa permeabilità la possibilità con le tende di chiudere la parte dove andranno a dormire i bambini piuttosto che di aprirsi verso l'altra sezione per organizzare i giochi all'aperto e poi tutto il tetto in legno che rimane a vista qui abbiamo una serie di promotori che ci hanno accompagnato e ci stanno accompagnando offrendoci il loro supporto e che colgo l'occasione per ringraziare ce ne sono tanti altri e speriamo che se ne aggiungano se ne aggiungano ancora lascio la parola a dottoressa Schiavina per aggiungere Buonasera a tutti sono Maria Carla Schiavini il presidente dell'impresa Schiavina impresa di costruzioni di Casalecchio che lavora su tutto il territorio nazionale molto in Emilia ringrazio anch'io come la Laura l'opportunità dell'Agenzia del territorio perché tutto questo nasce da una proposta un lancio, una sfida che è un'iniziativa dell'Agenzia del territorio alla quale noi abbiamo aderito ed è stato così che abbiamo conosciuto anche il sindaco di Camposanto perché noi prima di questo evento veramente dannoso non ci conoscevamo io addirittura, devo dire la verità non ero mai stata in vita mia a Camposanto e queste sono le occasioni nella vita che ti fanno pensare come anche dalle situazioni più disastrose come quella di un terremoto ci possono essere comunque delle opportunità intanto l'opportunità di conoscere un'amministrazione veramente disponibile noi quando abbiamo proposto il nostro intervento di architettura meccanica al quale peraltro già come ha detto l'architetto Rocca partecipavamo già da anni perché come impresa di costruzioni io ritengo che nel nostro settore minacciato moltissimo in questo momento di grande crisi l'unico modo per uscire sia quello di investire nell'innovazione investire nei sistemi costruttivi nei metodi per cercare appunto come diceva anche la Laura di ridurre quello che è l'elemento più indefinibile cioè il tempo di costruzione che fa lievitare i costi di costruzione noi lavoriamo nel settore peraltro del restauro oltre che nelle nuove costruzioni sappiamo quanto un cantiere può essere oggetto ad imprevisti e quindi i costi di costruzione devono essere per poter essere tenuti sotto controllo devono avere un processo costruttivo rapido e per far questo ci vuole una progettazione studiata e puntuale molto prima dell'inizio dei cantiere e dei lavori e in questo io ho trovato nello studio nei progettisti con i quali partecipiamo a questo progetto un'attenzione particolare a tutti i particolari appunto proprio per evitare che durante il cantiere ci siano degli imprevisti e quindi delle motivazioni per aumentare i costi ritornando appunto al discorso abbiamo accettato questa proposta perché credendo molto in questo progetto abbiamo detto ci siamo chiesti se potevamo in qualche modo contribuire intanto a questa situazione nella quale comunque come impresa e come individui tutti ci sentiamo un po' coinvolti e dobbiamo esserlo ma soprattutto perché questo poteva essere un intervento per dare dimostrazione di quelle che erano le nostre professionalità le nostre competenze il nostro studio sul quale ci stiamo sperimentando da diverso tempo e insieme a noi allargare la fascia dei fornitori che credevano in questo progetto un progetto che ha come innovazione anche quella della condivisione per cui i fornitori che credono in questo processo di costruzione che è un processo di costruzione a secco che è un processo di costruzione innovativo con attenzione alla sostenibilità attenzione al metodo possono partecipare e disporre le proprie competenze i propri prodotti in questo progetto è un progetto quindi che ha come come obiettivo quello di dare al comune all'amministrazione comunale una scuola materna gratuita dove ognuno contribuisce perché purtroppo la finanza è quella che è e la cosa migliore è che in tanti partecipiamo con i nostri prodotti questo è il progetto di condivisione di partecipazione che noi vogliamo portare avanti e che stiamo cercando di condividere e condividiamo anche con l'amministrazione e cerchiamo di portare a termine abbiamo già avuto diverse partecipazioni c'è molto entusiasmo la cosa che mi fa particolarmente piacere è che molti fornitori ci seguono i nostri partner che diventano partner a tutti gli effetti ed entreranno nel processo di progettazione per cui chi partecipa a questo intervento partecipa condividendolo e conoscendo anche altri fornitori che condividono le stesse idee ma soprattutto anche la tecnologia costruttiva quindi è un modo per crescere dando dimostrazione delle proprie competenze chiedendo però anche al territorio di poter essere visibili in questo processo perché è un processo che le nostre aziende fanno anche per far vedere quello si sentono forti dei propri prodotti e invece di fare una mostra fanno una mostra in una scuola del proprio migliore prodotto ecco questo è un po' il sistema quindi come un puzzle noi stiamo cercando in prima persona noi collaboreremo nella costruzione della scuola ma come un puzzle stiamo cercando di unire tutte le forniture per cui col sistema del passaparola che secondo me comunque condividendo questi valori ci sono le persone stiamo ricevendo molte telefonate però estendo ancora colgo l'occasione per estendere l'invito dicendo che mancano ancora qualche fornitura per cui siamo pronti è logico che qualsiasi fornitore deve essere evagliato perché i materiali devono essere devono rispettare certe caratteristiche di qualità che sono imprescindibili ma una volta accettati dai professionisti dai nostri progettisti entrano nel gruppo anche loro e il nostro obiettivo è quello poi di andare avanti di costruire ancora perché sono anche momenti di conoscenza di crescita e propedeutico per un lavoro futuro che sia in Italia ma anche fuori perché l'obiettivo è anche quello di di avere e dare dimostrazione delle delle proprie competenze anche per l'estero per cui noi abbiamo accettato la sfida una sfida che ancora non è ancora conclusa però ci stiamo impegnando con tutta la la passione e la la determinazione di volere veramente dare dimostrazione che da questa situazione da questi eventi decisamente negativi possono in realtà crearsi anche delle cose belle e essere un'opportunità per il futuro per le nostre aziende grazie 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 grazie